Amici e nemici di KTP Live ci siamo, siamo a Sorrento Napoli nella location dell'Esperity Resort per una serata importantissima, una serata di disco chic io vi consiglio di mettervi comodi e guardare le immagini, KTP firma solo grandi eventi Ciao da Andrea Libra Serata disco chic qui a Esperity Resort Sorrento Ciao ragazzi Ciao Allora la serata alla grande ovviamente tantissimi ragazzi provenienti da tutta la campagna Sì E queste serate disco chic funzionano alla grande? Eh sì, sono la trovata del momento Soprattutto quando sono organizzate da ragazzi in gamba Esatto Ragazzi ma avete trovato la vostra anima gemella questa sera? Certo, è normale Chi è la vostra anima gemella? Ti metti la chissà? Più di una Allora ragazzi allora io mi prenoto Allora salutiamo i ragazzi di KTP Live con il doppio dito KTP Ciao Ciao Sei su KTP Live Serata disco chic qui a Villa Resort Sorrento i ragazzi Ciao ragazzi Ciao Allora ci si diverte a Sorrento nella maniera più giusta con ovviamente sorseggiando anche degli ottimi drink E quante ragazze questa sera? Abbiamo colpito un sacco di ragazzi questa sera Avete colpito? Come i provietti lì questa notte Allora ragazzi salutiamo i ragazzi di KTP Live con il doppio dito così Sono le 4 del mattino qui all'Esperity Resort Lounge Club E siamo in compagnia di Gianluca Cesario che è il direttore artistico del NHG New House Generation Vi ricordo il sito che potete visionare www.nhgeneration.it alias NHG Lui è anche il DJ resident del gruppo Ricordiamo che voi organizzate grandi eventi in tutta la regione Campania Quindi siete ovviamente un punto di riferimento per quanto riguarda il by night della Campania La Campania più in maniera dettagliata Penisola Sorrentina Vogliamo presentare appunto i ragazzi che ne fanno parte? Mi presento io ufficialmente Gianluca Cesaro Niente Cesaro? Io ho detto Cesario prima Cesaro, Cesaro, Cesario è un noto vico della famosa Sorrento Puoi passare a? Carlo Tagliente, Pier del gruppo NEC Generation E per finire con? Il capogruppo della Public Creation Andrea Liguri Collaboratore di Gianluca Cesaro Diciamo il braccio sinistro di Gianluca Cesaro Ecco Gianluca sei fortunato ad avere tutti questi bracci Io ne ho soltanto due Stasera ho anche il braccio destro, Andrea Libra che è il massimo Ti ringrazio, troppo buono Allora ragazzi, ricordiamo un numero di infoline dove i ragazzi possono contattarvi E sapere le novità della New House Generation Certo, l'infoline lascio il mio che è sempre reperibile 24 su 24 anche per le donne comunque 334-74-92828 Mentre il sito dove potete vedere i nuovi eventi VNHGeneration.it alias NHG E ovviamente tutte le iniziative della New House Generation insieme a Gianluca Cesaro E della Sperity Resort di Sorrento Le potete controllare ovviamente sui siti KTV www.ktvtelevision.it oppure www.myspace.com Slash KTV Television Allora ragazzi, KTV Live firma solo grandi eventi La New House Generation firma solo grandi eventi Insieme abbiamo filmato un altro grande evento Salutiamo tutti i ragazzi di KTV Live Ciao ragazzi, alla prossima Wow KTV KTV Live